Isola dei Famosi Isola dei Famosi, nuovo ritiro di un concorrente, chi ha lasciato il reality? Aggiornamento Il concorrente che si è ritirato è Craig Warwick, ecco il motivo. L'Isola dei Famosi 13, un nuovo concorrente si ritira alla vigilia della puntata di martedì 13 febbraio su Canale 5. Ecco le prime indiscrezioni. Isola dei Famosi 2018, chi è il concorrente che si è ritirato il 13 febbraio?. Il settimanale Spy dà un aggiornamento sul reality show di Canale 5 attraverso il suo profilo Instagram. Ennesimo colpo di scena in Honduras. L'Isola dei Famosi perde un altro concorrente. Questa volta è il turno di un naufrago, a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio. Lo scopriremo questa sera durante una puntata ricca di colpi di scene inaspettati. All'Isola nulla è come sembra I. Già avevano abbandonato, per motivi completamente diversi, Chiara Nasti e Francesco Monte. Isola dei Famosi 2018, i concorrenti in gara. . 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